Ha picchiato la moglie, causandole anche ferite superficiali con coltello e punteruolo, davanti alla figlia minore e alla nipote di soli due anni. Per questo un 46enne romeno è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo ha aggredito la moglie per futili motivi, minacciando anche di ucciderla. Solo con l'immediato intervento delle forze dell'ordine, il 46enne è stato bloccato e trovato in possesso di un punteruolo, di un ombrello e di un coltello da cucina, con i quali aveva causato ferite alla donna, sia agli arti superiori che alla testa. La moglie è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, dove è stata curata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. L'uomo è finito in carcere. A San Giovanni Rotondo, invece, è finito in carcere un 61enne, che si era invaguito di una minorenne e la perseguitava. Dopo essersi procurato una bottiglia di acido muriatico, ha minacciato di versarne il contenuto addosso alla ragazza, che aveva seguito in un negozio. Solo l'intervento di alcune persone e dei carabinieri, subito giunti sul posto, ha evitato il peggio.